È tornata la notte dei ricercatori e ancora una volta le nostre città si riempiranno di luci e saranno le luci dei nostri ricercatori, di quelli che portano in piazza tutta l'attività che viene fatta quotidianamente nei nostri laboratori, nei laboratori delle nostre università. Ma quest'anno, ecco, quest'anno c'è una cosa importante. Bisogna che i nostri ricercatori incontrino di più le nostre scuole. Le nostre scuole sono tornate in presenza, è stata una grandissima conquista e questo però ha bisogno di più dialogo, di più parole. Bisogna che i nostri ragazzi che ancora fanno le scuole superiori possano vedere come lavorano i loro fratelli più grandi. Cosa vuol dire fare ricerca? La bellezza della ricerca, la bellezza di mettersi lì insieme a costruire qualcosa di nuovo. Ecco, pensate il grande valore educativo di questo. I ragazzi, i ragazzi più grandi insieme per il nostro paese. Questa è la notte dei ricercatori. La notte dei ricercatori è il momento in cui la scuola, l'università, tutte le nostre piazze si incontrano finalmente insieme e insieme rappresentano tutte le potenzialità, le capacità, le passioni, l'intelligenza di cui è pieno il nostro paese. Buona notte dei ricercatori a tutti.